Una mobilitazione per chiedere alla Regione i mezzi di trasporto pubblico adeguati per gli studenti delle scuole superiori che il 7 gennaio rientreranno in classe. Questo è il senso della petizione lanciata sulla piattaforma change.org e che in tre giorni ha superato le 330 firme. Una petizione indirizzata dal Presidente della Regione Cristian Solinas, all'Assessore regionale della pubblica istituzione Andrea Bianchereddu e all'Assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde affinché si possa ripartire in sicurezza. Il 7 gennaio sottolineano una notte i promotori della petizione, Giuseppe Contini, Anna Rita Melis, Fabiana Pilia, Fabio Pisana, Gianluigi Pitau e Giovanni Spiga. È previsto il rientro in classe per migliaia di studenti sardi dalle scuole superiori. Dopo due mesi trascorsi a casa, come genitori, come insegnanti, come studenti, ma anche come personale della scuola e come componente della società civile, ci chiediamo se, dopo tante promesse, si potrà rientrare in classe in sicurezza, con mezzi di trasporto pubblico adeguati, viste le criticità che si sono manifestate nei mesi di settembre e ottobre, rilevano i promotori. Ad oggi non è chiaro come e in che modo debba avvenire questo rientro e in che modo siano stati potenziati i trasporti pubblici utilizzati anche da tanti lavoratori pendolari. La paura è che proprio dalla mancanza del rispetto delle norme anti-Covid possa peggiorare la situazione dei contagi in Sardegna. Nessuno, sottolineano i promotori, vuole ripetersi dei viaggi con gli studenti ammassati nei mezzi di trasporto, come è successo nei primi mesi di scuola, perché questo comporterebbe un grave rischio per la salute di tutti e in particolare dei nostri cari nonni, dei nostri genitori e degli anziani che costituiscono il pilastro della società sarda. Nella petizione si chiede alla regione di conoscere il nuovo piano di trasporti che ci si augura sia stato preparato per tempo. Il futuro della Sardegna, a parte dalla scuola, e non dimentichiamo che oggi ad essere penalizzati, sono gli studenti. Questa ha delle gravissime ripercussioni sul rendimento scolastico nell'isola e cui il tasso di dispersione in alcune aree è solo il 50%. Confidiamo nel senso di responsabilità nella ricerca del bene comune da parte delle istituzioni che rappresentano tutti i sardi, conclude la nota. Grazie a tutti.